pronti a tornare in diretta con una gran bella sorpresa qui accanto a me due grandi più che grandi grossi vabbè insomma in tutti i sensi io avevo detto all'inizio abbiamo degli ospiti che ci fanno ridere nel senso che sono dei teatranti ecco aspetta perché c'è qualcosa che mi fischia vediamo se riusciamo che bella ragazza ecco potassi ecco questa qua benissimo allora buongiorno buongiorno Vincenzo Costantino buongiorno a tutti buongiorno buongiorno a tutti Ivano Fossati no Ivano Bordone nemmeno Bordone mi aspettavo da te Bordone Ivano Verdugi eccolo qua dall'altra parte del bancone nostro c'è un altro ospite che ne parleremo poi più si 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 oh benissimo detto questo che facciamo iniziamo da te Ivano si iniziamo rispieghiamo come l'abbiamo fatto io intanto vi ringrazio per la vostra presenza grazie a te per l'invito grazie ecco perché la gente ama il teatro perché deve venire a vederlo e perché questa non ha rassegna giusto in onore alla grande Nuccia che voi organizzate ogni anno con tanti sacrifici ecco partiamo da quella dello scorso anno perché è nata come funziona si niente la rassegna giustamente nasce nove anni fa nasce quindi nel 2007 quando Nuccia Romeo è venuta a mancare e noi quindi abbiamo deciso di di fare questa rassegna ogni anno in sua memoria in suo onore e quindi da allora abbiamo cominciato a fare un percorso ecco che si è sempre più migliorato si può dire anche noi siamo migliorati come come compagnia nove anni scusami Ivano senza interruzione senza interruzione ecco da nove anni a questa parte voi avete sempre dedicato ogni anno esatto una rassegna a Nuccia con tutte le difficoltà con tutte le difficoltà che ci sono e poi è importante anche dire che il periodo nel quale la facciamo esatto il periodo noi cominciamo sempre cioè ci deve essere sempre il primo marzo il primo marzo era il giorno in cui Nuccia Romeo compiva gli anni e quindi il giorno 1 marzo sia che sia che cada di lunedì o di un altro giorno della settimana non ha importanza noi facciamo una serata e poi in altre domeniche di febbraio o di marzo e sono quindi come ti dicevo nove anni in cui sono venuti a recitare ecco sul palco di Annà del salone parrocchiale di Annà tantissime compagnie da tutti da tutte le zone anche una da Rescaldina per dire in provincia di Milano è venuta una volta però diciamo diciamo che ne sono passate di compagnia tantissime sul palcoscenico di Annà giusto? e quindi voglio chiederti a prescindere da tutte le difficoltà che si incontrano comunque è anche una gran bella festa una gran bella festa perché insomma insieme alle altre compagnie riuscite a far divertire una buona parte di persone dove naturalmente vi divertite perché è anche questo giusto? sì ci divertiamo ma anche diciamo facciamo cultura nel senso che noi incontriamo queste persone che vengono da vari posti della Calabria ci scambiamo anche le nostre opinioni i nostri problemi tutto quello che di brutto di bello c'è nelle nostre zone cosa bisogna migliorare eccetera quindi non è solo una questione di divertimento che forse è la più importante però è anche importante scambiarsi diciamo che con queste compagnie scusate che vi interrompo non ce l'avamo dimenticato diciamo che instauriamo anche un rapporto di amicizia con queste compagnie che poi è la cosa molto più importante di tutto il resto certo noi facciamo teatro per divertire le persone però anche per conoscere posti luoghi e persone di altri comuni di altri paesi della nostra Calabria questo è importantissimo una cosa una gran bella cosa questa perché il teatro si vive vive anche di queste cose voglio dire quindi ecco stavi finendo abbiamo abbiamo girato tantissimo io grazie al teatro ho scoperto dei posti in provincia di Reggio che non avevo mai visto e che non conoscevo e quanto sono belli Filippo veramente ci sono dei luoghi incantevoli Siderno Superiore per dire oltre Gerace e gli altri posti si si noi abbiamo fatto teatro insieme con Vincenzo con l'altro amico dell'altra banda voglio dire è bello è bello io purtroppo con te non ho mai fatto teatro sai lo devo si no io ho cominciato dopo sai cos'è Filippo che noi siamo un pochettino più grandi lui era piccolino quando noi facevamo quando facevamo teatro noi lui ancora andava alle scuole elementari ma comunque possiamo provare qualche volta con piacere Filippo la nostra compagnia è aperta a chiunque voglia venire a passare un paio d'ore di divertimento ma il teatro è bello per questo perché le porte sono aperte ognuno può fare parte della compagnia può prendere parte può recitare insomma non c'è bisogno di saper recitare l'importante è che uno venga e faccia parte fa parte della compagnia perché il teatro è anche stare dietro le quinte gli attori sono quello che uno vede ma poi dietro c'è il lavoro il lavoro è più dietro che quando si va sul palco bene allora facciamo così Ivana tu per il momento ti mettiamo in pausa sì mi mettete in pausa io dimmi dimmi poi ritorniamo no sì come diceva Vincenzo nel teatro è importante anche quello che sale sul furgone diciamo e noi ce l'abbiamo qui davanti a mettere a posto la scenografia ecco se io esco e faccio entrare no no puoi rimanere facciamolo lo facciamo entrare adesso certo se non si vergogna ma non penso che si vergogna facciamolo in diretta eccolo qua eccolo lui come lo chiamiamo a lui Peppe 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 di Livio Peppe di Livio no 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 solo Peppe solo Peppe per gli amici Pino per gli amici Pino per gli intimi Abete Abete ecco tu che cosa vuoi qua stamattina no niente sono venuto solo perché effettivamente mi hai detto ma vieni un po' là così la gente ride qua là benissimo di cosa parliamo politica così ridiamo sicuro no no queste cose noi non giriamo parliamo invece di teatro di cose belle cose che fa veramente star bene la gente Peppe è un grande artista teatrale ecco no vabbè grande voglio dire un grande un grande simpaticone veramente quindi ecco tu in questa non rassegna che fai quest'anno avvicinati vicino al mio microfono io che faccio quello che fanno gli altri si ho capito reciti no non solo anche per l'organizzazione l'organizzazione nel senso aiuto aiuto come aiutano tutti gli altri no lavoro io aiuto lavoro è un'altra cosa bisogna farlo non per lavoro lo sai benissimo nel senso lavori dai una mano d'aiuto do una mano d'aiuto come tutti naturalmente come tutti perché in una compagnia c'è chi fa più chi fa meno tu sei sempre di meno comunque si sicuramente sempre di meno perché io tanto non è che c'è Ivano che fa tutto no 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 sempre di più fa Peppe sempre di più anche perché Peppe sa fare un po' di tutto dal muratore dal carpentiere dall'elettricista è un tutto fare poi voi lo sapete era uno dei vostri di questa radio no? si ha fatto anche la radio faceva parte anche della radio certo eh vabbè insomma allora facciamo una cosa visto che il tempo è pochissimo con Vincenzo vogliamo parlare un po' di questa nona rassegna nona rassegna ecco come gli spettacoli come sono allora vuoi iniziare perché io volevo chiederti vabbè iniziamo intanto diciamo gli appuntamenti e poi mi fai le domande gli appuntamenti sono tutte le domeniche di marzo quindi cominciamo il primo marzo e poi via via fino al 29 marzo quando ci sarà la serata conclusiva il primo marzo debutteranno con una nuova commedia i nostri ragazzi la primavera parlando in gergo calcistico gli zero in condotta con una commedia in tre atti dal titolo Calorio la manna tutti gli spettacoli ricordo sono alle ore 18 quindi uno si può vedere la partita dell'Inter e poi viene a riprendere vero Filippo Verrai a riprendere queste commedia sicuramente avete pensato a tutto perché dice facciamo che finiscono le partite delle 15 bravissimo finiscono alle 17 qualcosa o meno qualcosa noi iniziamo lo spettacolo alle 18 alle 20 all'incirca dovrebbe finire tutto e c'è quello il posticipo così i maschietti che vogliono vedere le partite accompagnano le loro rispettive fidanzate e mogli a vedere il teatro ma anche perché voglio dire le ore 18 e un orario si è eccezionale tu ti chiedevi che cosa fa Peppe ecco Peppe fa queste cose lui ha queste intelligenze è stato lui ad organizzare l'orario l'organizzato anche perché Peppe si guarda i partiti e vabbè c'è ragione insomma anch'io me li guardo le partite quando posso ma visto che faremo parte anche noi telemelito con le nostre telecamere a riprendere i vostri spettacoli noi lo facciamo se poi si dovesse in qualche maniera perdere una partita la recuperiamo ah siccome è il derby di Genova mercoledì allora andiamo avanti Vincenzo allora l'8 marzo tornerà una compagnia a noi molto cara la compagnia teatrale deliese di Delia Nova che farà una commedia che tu forse conosci da casa i Don Raffae la voglio proprio vedere la voglio proprio vedere la voglio proprio vedere la ricordi eh si 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 io ho fatto parte insomma bellissima bellissima è una bella commedia si questa si domenica 15 verranno gli amici di Catanzaro il teatro Hercules del grande Piero Procopio un artista che definire affamato dilettante no affamato affermato affermato dilettante e dir poco è un professionista Piero Procopio si si Procopio grande ho avuto modo anche di fargli un'intervista e devo dire che è simpatica è bravo e ci farà vedere lo sciupa femmine si 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 poi domenica 22 ci sarà una compagnia che sta nascendo ora la Filotecnos di Reggio Calabria questa è nuova si è nuova ti dico la verità si sono proposti loro hanno voluto fortemente venire da noi e speriamo ci facciano divertire fanno un purpurri uno infatti lo spettacolo si chiama spezzatino di teatro spezzatino di teatro insomma è un misto un collage si non anticipiamo niente invitiamo il latino il latino sembrava tipo patteo infatti sembrava master chef pur pur rì ho capito e poi concludiamo come sempre noi con la compagnia degli adulti ti posso chiamare papà una commedia divertente dove Ivano ci fa sbellicare dalle risate anche a noi che recitiamo solo un palco quindi ti volevo chiedere tra il vecchio e il nuovo perché c'è qualcosa di nuovo insomma avete a prescindere da tutto voglio dire siete riusciti a organizzare questa nona compagnia volevo chiederti appunto nona rassegna nona rassegna scusami va bene insomma sono tante le cose che ho in testa da chiedervi tu sei come me l'intelligenza è nostra voglio dire Vincenzo Ivano Peppe quest'anno ecco un po' ridotta è un po' ridotta sì perché non solo noi abbiamo avuto problemi proprio lavorativi se si può con le virgolette se si può parlare di lavorativo ma anche le altre compagnie che noi usavamo invitare eravamo soliti invitare hanno avuto problemi quindi naturalmente l'Italia ha un problema generale e si ripercuote anche nelle compagnie teatrali anche nelle compagnie teatrali e quindi quest'anno anzi è stato un miracolo riuscire a fare questa nona rassegna diciamo che voi Vincenzo quello che fate lo fate da soli sì assolutamente ma da soli da soli proprio aiuto esterno soprattutto ora che ci sono tutti i comuni commissariati eccetera eccetera non non arriva da nessuna parte quindi quello che facciamo sono sacrifici nostri non solo di tempo e di lavoro ma anche a volte pecuniari ecco che poi nelle locandine andrete a vedere proprio in basso ingresso 2 euro e che penso che sia un piccolo un piccolo contributo ma io sinceramente ne darei pure anche se sono 2 euro io entrerei a vedere una gran bella serata comunque di teatro darei qualcosa in più perché il teatro vive vive di queste vive anche di quelli che vanno a vederlo insomma quindi l'invito è da parte di tutti di venire noi abbiamo pensato ai 2 euro proprio per non pesare sulle famiglie che vorranno venire a vedere che 2 euro penso che non sia una cosa molto gravosa assolutamente le 2 euro adesso vai al bar già li consumi quindi un caffè è un cornetto non basta quindi 2 euro quindi dare 2 euro per vedere un spettacolo che ci viene proposto appunto non la rassegna teatrale c'è un uccia dalla compagnia teatrale Anna in scena è proprio zero niente e appunto dico ristretto veramente peccato perché le scorse proprio quella precedente erano 9 serate 9 serate quindi qui siamo riusciti a giustare 5 serate tutto il mese di marzo sì quest'anno solo il mese di marzo speriamo in tempi migliori vero Peppe sì ma quella è la telecamera che ci riprende sì quella ciao mamma ciao mamma ciao mamma no niente voglio dire peccato peccato perché veramente si aspetta questa rassegna teatrale ogni anno organizzata da tutti voi con grande serietà è una bella organizzazione peccato perché si poteva fare due mesi quasi di spettacolo il nostro pensiero a fine rassegna scorsa ti dico la verità era quella di cominciare molto prima di Natale però come ti ripeto a iniziare a ottobre fare qualche serata non tutte le domeniche saltare eccetera eccetera però sinceramente le compagnie che abbiamo chiamato per per intervenire avevano grossi problemi e quindi purtroppo è così niente Ivano vuoi aggiungere qualche altra cosa insomma voglio dire ecco anche che tu per queste problematiche che ci sono diciamo problemi di sociali problemi sociali il discorso il discorso è sempre quello purtroppo in effetti non è per fare teatro lo ripetiamo magari rischiamo di essere diciamo come dire ripetitivi ripetitivi o patetici però questa situazione economica si ripercuote su chi vuole fare cultura perché certo perché cultura sembrate quelli che andate a fare fare ridere non è soltanto quello la mia era una battuta è cultura no no si si ho capito ho capito effettivamente tu e quindi purtroppo ci ritroviamo in a navigare ecco così in un mare in burrasca però noi continueremo fin quando avremo le forze ecco non mollare mai naturalmente andare avanti e nessuno nessuno si fa avanti nessuno si propone ad aiutare le compagnie le varie compagnie che ci sono sul territorio perché hanno veramente bisogno e anche noi che abbiamo bisogno di andare al teatro la sera e se noi non aiutiamo queste queste compagnie non possiamo andare a vedere lo spettacolo speriamo in tempi migliori speriamo ce lo auguriamo quest'anno ci sono le elezioni beh insomma i candidati sindaci mettano nel proprio programma sta parlando di politica no no nel loro programma anche questo fatto Melito ha mi sembra sette otto compagnie teatrali e non abbiamo un teatro non c'è un teatro ragazzi Melito Portosalvo senza un teatro o un cinema ma non dico un teatro ma un cinema i ragazzi dove devono andare a vederseli mentre già diciamo a dieci chilometri a Bova a Bova Marina ce l'hanno si sono organizzati è una città di quasi 15.000 abitanti come Melito non avere una sala teatrale per voi per tutte le compagnie per la gente per tutti insomma una presentazione di un libro uno spettacolo culturale un concerto sinfonico i cori che ci sono in giro per le parrocchie che sono bravissime io sono andato a vedere io non parlo solo del teatro io parlo proprio della cultura generale del comune di Melito Melito ha bisogno di un teatro ma non un teatro fuori Melito un teatro ha Melito la gente di fuori deve venire a Melito a vedere il teatro non può andare parlando con rispetto a Pentitattilo all'acqua a Musopuniti o a Pilati o ad Anna deve venire a Melito deve essere un teatro del comune di Melito speriamo guarda noi lo diciamo anche grazie a voi che venite dai nostri microfoni lo abbiamo molte volte ribadito questo fatto il problema che non c'è veramente un teatro a Melito ma per il teatro per qualsiasi cosa come dicevi tu anche una presentazione di un libro un qualsiasi cosa purtroppo speriamo che qualcuno colga il messaggio e che poi di questi nostri politici ci metta la buona volontà perché si può si può si può come dicevi mi è venuta in mente una cosa dicevi due euro si spendono al bar in effetti anche di meno perché ora finalmente tutti i bar hanno messo che non si offre a nessuno infatti due euro se possono con una differenza che con due euro tu ingrassi esatto se invece vieni vieni a vederti la commedia ridi ti diverti non ingrassi consumi energie consumi energie e quindi visto che mi hai fatto questa battuta siamo una zero per te io devo pareggiare avevo problemi pensavo che tu non entravi a livello della telecamera come altezza se mi alzo vedi entro con lo stesso invece se ci alziamo noi ti ha ripreso 1 a 1 fermavamo per l'1 a 1 sicuramente sicuramente no volevo chiedere ragazzi purtroppo abbiamo tre minuti dobbiamo liberare anche tre minuti per i tuoi radioascoltatori vogliono le vedi questa canzone che sta per andare in onda di un vostro amico e collega di Saline no no Filippo che ci sta ascoltando ah Filippo 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 no io l'altro Filippo il vostro quello che fa parte della nostra compagnia Filippo lo conosci Filippo lo conosci tu a Filippo si io si tu lo conosci a Filippo no mi ha chiesto questo brano lo voglio dedicare alla moglie Domenica vabbè e allora salutiamo Filippo e Domenica ah fa l'onomastico ah l'onomastico fa Domenica oggi che oggi è Domenica no per chiudere Peppe allora è una battuta anche tu per questa nona rassegna teatrale allora innanzitutto avvicinati di venire ma venire a vedere le varie compagnie perché innanzitutto si sta comodi si sta comodi certo e se piove non vi bagnate assolutamente siamo dentro e ah vi volevo dire siccome alle 6 noi apriremo i cancelli verso le 5 ecco questo è le 17 le 17 le 17 e 5 non venite prima perché per dare modo di iniziare alle 6 attuali in modo che poi alle 8 puoi andarti a vedere l'Inter non c'è nessun problema certo comunque niente venite venite anche perché lo sapete già da 9 anni che non cioè se non venite vi perdete qualcosa di veramente sicuramente sicuramente sì Peppe io sono sono d'accordissimo perché voglio dire il teatro io che l'ho fatto è bello perché l'ho fatto anche voi che l'ho chi lo viene a vedere si diverte si diverte perché passa due ore tranquilli in spensieratezza con con cercando di non pensare ai problemi che hai a casa ai problemi che ci sono a casa pensando a quello pensando a quello niente ragazzi per chiudere allora Vincenzo l'ultimo invito intanto ringraziamo Telemilito per Radio Studio 95 per questo invito per questa opportunità di farci vedere al pubblico anche in tv e vi invitiamo a venire naturalmente ci eravamo già messi d'accordo che voi sarete presente ogni serata un grazie se posso anche al sito www.ntacalabria.it che seguirà anche lui anche il sito ogni domenica ogni lunedì ci sarà un articolo sulla serata della domenica precedente un grazie a voi per la cortesia e per la pazienza di averci sentito dire qualche fesseria siamo contenti quando ci sono i teatranti qua in studio siamo contenti e scusate la mia quasi arrabbiatura quando ho parlato del teatro di Melito però è una cosa a cui ci tengo far rabbia a tutti guarda non solo te credimi Ivano per chiudere l'invito allora l'invito a giorno 1 marzo ore 18 salone parrocchiale di Anna siamo lì ci sono le sedie già pronte sono già pronte si si li ha sistemate tutto quanto pronto bene allora nona rassegna teatrale 2015 ciao Nuccia dedicata a questa splendida donna che purtroppo non vedremo più ma che diciamo che il signore se l'è voluta portare perché era troppo brava troppo brava esatto ma che i nostri amici della compagnia teatrale Anna in scena non dimenticano mai nonostante tutti i problemi loro ogni anno a qualsiasi costo organizzano una rassegna dedicata a Nuccia come l'hanno fatto io faccio veramente tanti tanti complimenti mi sono pure emozionato un poco perché siete veramente fantastici e vi faccio veramente tanti complimenti grazie grazie rimanete qua con noi Peppe un attimino perché daremo la linea alla regia e poi niente saremo lì con voi ci vediamo domenica prossima Forza Inter comunque stasera cioè lunedì no Forza Inter no perché sai che io ti focagliari quindi è il nostro scontro diretto un pareggio dai una a una come ha detto Ivano una a una tanto voi non devi tagliere no ma va bene insomma facciamo punti smuoviamo la classifica quest'anno Filippo nei primi eventi arrivate sicuro ah va bene insomma va bene l'importante è che non andiamo in serie B no no c'è il Parma c'è il Parma che ormai va bene grazie ragazzi grazie a tutti diamo la linea alla regia e poi torniamo ancora con la musica per chiudere questo nostro appuntamento di oggi domenica 22 febbraio 2015 questa noce è gitana e la musica non para si sta descendendo amore mio sigue bailando Radio Studio 95 para toda la vita deja de cebare ora è